... ... ... ... ... Madi! Madi, però all'istante lo voglio! Lo corre simulare, non posso far grazia aperta! Bisogna che tutti abbiam per morto il cavalier! Quest'uomo fido provvederà! Chi mi assicura? L'ordicchio gli darò a voi qui presente! Spoletta, chiudi! Ho mutato d'abbito! Il prigionier si è fucilato! Attendi! Come facemmo del conte palmieri! L'uccisione! Simulata come a menne dei palmieri! Hai ben compreso! Ho ben compreso! Va! Voglio avvertirlo io stesso! Messia, le darai passo! Vada, allora, guarda! Sì, come palmieri! Io tenni la promessa! Non ancora! Voglio un salvo condotto! Voglio un salvo condotto! Onde fuggire dallo Stato con lui! Partire da un quel ponete! Sì, per sempre! Sì, adempia il buon erbastro! Sì, adempia il buon erbastro! Onde fuggire dallo Stato con lui! Onde fuggire dallo Stato con lui! Il perdore di lui! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.